è storta salve man giusto ha bastato di siera o no? è storta è nuovo? è buono non so quanto io ho la miscela ti tiro giusto per consumi giusto così se c'è stava la consumiamo io proporrei di venice dopo da dante ho appena finito le mani ho scoperto perché stanno a fare la guerra è perché Putin si è incazzato da perso a risico no ho visto che l'hai mandato però non l'ho visto perché stavo facendo le cose giusto where we go? guai io vado vabbè nel dubbio vado tri si è lasciato la visione si è lasciato un po' di sgato dici? a il si è si è Raga c'ho freddo ai piedini Ho un freddo boio Comunque raga Dobbiamo trovare un nome Per questa piccolina Oh il cane sta frenando questo Per questa piccolina Perché ci abbiamo quasi 250 km E ancora non glielo ho trovato Io proporrei un bel contest Qui sotto nei commenti E il nome migliore vince Poi nulla togliendo Che se non me ne piace nessuno Ne scegliamo un altro Ma insomma Siccome la mia creatività ultimamente In fatto di nomi Ecco mettiamola così Sta andando male Datemelo a noi Anche perché voglio che voi Siete i più partecipi possibili All'interno di questo canale Perché ragazzi lo sapete Io vi voglio tanto tanto bene Caputtana Questa non so Buche So pozzi Comunque raga Cioè Non fate il mio stesso Non vi mettete i fantasmini Mentre andate in moto d'inverno Sono stato Un pirla Ma questi Che ce ne siete venuti a fare qua Che non c'è sta niente da fare Porca boia Ragazzi mi sono cagato sotto Che hai fatto? Man Io sto con i poltretti A posto delle dita Man io sto pure con i fantasmini Forza Mi resta la seconda Vabbè Vabbè man Ogni volta che esci con me O sai metterla prima O sai metterla seconda Anche qua mi sono un po' Spirizzato Attenzione Attenzione Questi sono i trucchi del mestiere A mezzo Lo accenderei anche Ah beh L'aria Lo sento in guida Che là Lo accendi E c'è la pacchetta Magica Ah ma Ma dovete spiegare una cosa Perché il collo Che c'ho totalmente Che cazzo sta a fare Boh Che c'ho totalmente scoperto Ce l'ho caldo E la mano sinistra Che c'ho nel guanto Per Dio È congelata Che c'ho nel guanto Che c'ho nel guanto Ma che c'è quella schia verde Eh Chi è quella schia verde Questa È la folle Guarda Poi metto la prima Sparisce No Ok Guarda C'ho pure la retromarcia Man Grandissima retromarcia Chiama si Pendenza Man Non riesco a starci sopra No Non più Comunque boys Devo cambiare assolutamente Sto scarico Però ho scoperto Che è tutto saldato Quindi Brutto Brutto Allora raga Sostanzialmente Dall'ultima clip Che avete visto È passato un pochino di tempo E Siccome sembrava brutto Chiudere un altro video In cameretta Sono uscito Principalmente Per fare l'altro Di questo video Ma poi Per darvi delle news Perché a breve Vedrete una nuova serie Di episodi Su questo canale Che ho intenzione Di portarvi Devo prima capire Come strutturarli Per bene Perché come sapete Come a tutti I motociclisti No Chiamo motociclisti Ma Ancora alle prime armi Mi ha preso la smagna E Non posso tenerla originale Questa bellezza Ma Ma Ci prenderò Dei nuovi pezzi Che per ora Si limiteranno Solo a livello estetico Ma prima o poi Arriverò a modificarci Un pochino di tutto L'intenzione è quella E li sto ordinando Sto già vedendo Cosa prendere E cosa non prendere Ma ragazzi Volevo dirvi Siccome Non sono molto esperto Di scarichi Ma vorrei cambiarci Anche quello Se qualcuno di voi È esperto Sa Qual è il giusto Compromesso Tra Estetica Sound E soprattutto Che non costi Scropositatamente Se me lo fate sapere Sotto nei commenti Io sarò felice Di ascoltarvi E Prendere in considerazione Tutte le vostre idee Altrimenti Se devo far da me Ci metto tanto tempo Raga Detto ciò Io Faccio la curva E poi vi saluto Perché non mi pare Caso mette La mano davanti L'obiettivo in curva Non si vede niente Solo in faccia Buono Quindi Da me è tutto E noi stiamo Ci vediamo al prossimo video Grazie per la visione!